Guerra ai locali pubblici e alla musica, guerra ai negozi, guerra ai residenti, guerra alle decorazioni. Siamo in corso Garibaldi, Mario Marini quindi passa al contrattacco, possiamo dire così, dopo che gli è stato intimato di togliere le statue che sovrastano questo palazzo. Forse dà un attimino di allegoria in più rispetto magari a qualche insegna che è qui vicina. Però è vero che questa volta ti sei in qualche modo irritato. Sì, sì, ma no, mi ha deluso ancora una volta l'atteggiamento un po' incomprensibile qualche volta dello Stato in generale, non tanto della pubblica amministrazione locale, ma proprio di, ecco, vorrei togliere l'attenzione dalle statue. Quella delle statue è stata un'assurdità, si poteva ragionare diversamente, si poteva cercare di pensare che potevano essere un'insegna o qualcos'altro. Comunque se abbiamo sbagliato a mettere le toglieremo, adesso questo vorrò verificare. Non pensavo che non si potessero mettere due freggi che ritengo che non siano poi così, che disturbino così. Però se non si può, conformemente a quello che prescrive la norma, li toglierò. Il problema è le modalità, è tutto quello che si è, i ragionamenti che si sono fatti attorno a questo semplice freggio qua. E' ora di finirla, di porsi rispetto al cittadino solo per sanzionare, colpire e mai per proporre. Cioè noi ormai siamo abituati allo Stato, e non parlo del Comune di Pordenone, i cui funzionari sono stati anche corretti, hanno un posto di niente dell'ufficio urbanistica e di coloro che hanno istruito la pratica. La città sta morendo, è una città che piano piano si spegne, non brilla per iniziative, la colpa è di tutti ed è anche nostra e anche mia, anche dei cittadini. E' proprio una mentalità che manca, è una città che sembra ancora avere una mentalità da paese. Cioè non è possibile sempre dare giudizi, fare ragionamenti a prioristici senza pensare alle cose che si dicono. Segnarebbe ad essere un po' più ben disposti, pensare che chi decora, chi investe sulla città andrebbe aiutato. Io posso avere un'idea completamente diversa sulle decorazioni, sullo stavolo, anche sulla qualità degli oggetti, di quello che si fa. Però certamente non si può sempre essere solo colpiti, criticati, la critica prioristica anche di chi dovrebbe invece amministrare, proporre e aiutare chi vuole investire. Se oggi dobbiamo fare qualunque operazione di investimento qui, bisogna pensarci bene, perché oltre ad essere onerosa, è ingestibile il rapporto con il pubblico. Questo deve cambiare.